Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria. Per dare visibilità e diffondere questo tema sui vari livelli del tessuto economico e sociale, dal 5 al 7 ottobre avrà luogo a Pordenone il PN Trading Places, primo ed unico festival in Italia che parla di credito, inflazione, investimenti, previdenza, risparmio, cyber security applicata al settore bancario e finanziario. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e tenuti da figure chiave della finanza, come analisti, dirigenti istituzionali, accademici di fama internazionale e giornalisti esperti di questioni economiche. Questi approfondimenti si rivolgono al grande pubblico, a professionisti e imprese, agli studenti delle scuole secondarie e ai loro docenti. Inoltre, nella giornata di sabato 7 ottobre, si svolgerà, presso alcuni esercizi del centro città, l'evento collaterale Le botteghe del sapere, una serie di interventi su temi finanziari rivolte a tutti i cittadini, condotti da docenti dell'Università di Udine. Abbiamo ritenuto, e in questo ovviamente abbiamo convenuto anche con il Comune, di fare un'azione che non sia solo quella di preparazione dei ragazzi e delle ragazze che si iscrivono ai corsi universitari, ma su questi argomenti, che sono anche molto delicati e non sempre facili da comprendere, aprire, scendere in piazza, per così dire, e raccontare un pochino a tutti i cittadini, ovviamente partendo dai giovani, ma arrivando fino a persone molto mature, che cosa siano questi strumenti. Quindi usando dei metodi, anche degli incontri, dei luoghi di incontri, che possono essere le botteghe, oltre ovviamente alle scuole per quanto riguarda i ragazzi, ma anche delle modalità di dialogo e di divulgazione facili da capire. Noi mettiamo in campo i nostri docenti che qui hanno costruito il corso di banchi e finanza, sia a Trinale Magistrale, che come sappiamo si svolge solo a Pordenone, insomma, è un pilastro importante della formazione in economia dell'Università di Udine. Quando si tratta di concetti anche piuttosto complessi, come quelli dell'educazione finanziaria, è fondamentale poi tradurli con parole semplici alla popolazione, specialmente perché sono concetti che hanno a che fare con noi e con la popolazione in generale giorno dopo giorno, e anzi ogni santo giorno, direi. Quindi questo ciclo di eventi in collaborazione col Comune dell'Università di Udine è fondamentale ed è articolato in maniera molto positiva, è fondamentale su questi concetti, lo è dal 2016 quando proprio il Sindaco Alessandro Ciriani e il Consiglio della Regione del Basso si batterono per portare, attivare nel nostro costruzio universitario il corso di banca e finanza, che ha visto uno sviluppo importante dagli 80 alunni dell'anno accademico 2017-2018 fino ai 324 che frequentano l'attuale anno accademico. Abbiamo sempre ritenuto fondamentale all'interno del nostro costruzio universitario creare delle figure professionali che poi possano all'interno proprio del panorama finanziario con competenze specifiche nel mondo finanziario poi aiutare il nostro sistema imprenditoriale Grazie a tutti.